serie di poligno nel caos il presidente nocili lascia la società e consegna le chiavi al sindaco mismetti gubbio doppia seduta del derby con la voluntas spoleto magi recupera buali e romano il padule san marco festeggia con tre turni d'anticipo il ritorno in prima categoria fontanelle branca l'eccellenza è ad un passo volley playoff superlega alle 20 e 30 decisiva gara 5 tra verona e perugia buonasera ben ritrovati con l'informazione sportiva di trg il calcio e la serie di in apertura con grandi novità provenienti da foligno e di fatti pronto a disimpegnarsi dopo quasi due mesi dal suo arrivo il presidente alessandro nuccilli che tramite una lettera confermato di voler lasciare in carico e società riconsegnando di fatto le chiavi al sindaco di foligno nando mismetti già nei giorni scorsi l'imprenditore romano aveva dimostrato insofferenza sul mancato richiamo attorno alla squadra della città e delle forze economiche sociali i rimborsi ai giocatori ancora tardano ad arrivare e ad oggi il futuro sembra essere di nuovo nebuloso per maggiori approfondimenti vi rimandiamo al tg provincia intanto la compagine bianco azzurra si allena a campo di marte in vista della trasferta di domenica san giovanni valdarno da segnalare i progressi dell'attaccante luca urbanelli in odore di convocazione dopo il lungo stop per infortunio indisponibile in terra toscana sarà invece balistreri squalificato per un turno dal giudice sportivo doppia seduta invece per il gubbio in vista del derby di domenica sul terreno del fanalino di coda voluntas spoleto mister maggio ha recuperato diverse pedine rispetto all'ultima settimana su tutto il jolly buali e capitano romano tornati entrambi a pieno regime in gruppo senza dimenticare i pieni recuperi di de grassi e ferretti quest'ultimo uscito acciaccato nell'ultima partita con il ghivizzano sempre contro i toscani uscito anzitempo anche calombo che resta in forte dubbio a causa di un problema muscolare mentre prosegue il percorso riabilitativo dalla lesione al polpaccio accusata a poggi bonsi di proietti che sicuramente non sarà della partita magi quasi certamente confermerà il 4 3 3 anche al comunale che si prospetta gremito con almeno 500 tifosi e gubbini al seguito la linea difensiva dovrebbe essere formata da marini e di maio al centro buali e de grassi sulle corsie esterne centrocampo con croce romano e la conferma del giovane conti netto vantaggio su cuccia e tridente composto da ferretti ferri marini ed uno tra crocetti o zuppardo in ballottaggio per il ruolo di centravanti ripresa avvenuta anche per il città di castello che dopo il pari con il sansepolcro guarda ora la trasferta sul terreno del ghivizzano mister fiorucci per l'occasione non potrà contare su missaglia espulso nel derby che potrebbe essere sostituito da luparini si prepara anche il gualdo casacastalda in vista della gara interna con il gavorrano mister manuelli recupera gabriele fondo in attacco ma in difesa non potrà contare sulla piedato tortelli che sarà sostituito con ogni probabilità da fiacco ai box anche il centrale difensivo marani per infortunio in serie b seduta pomeridiana per il perugio atteso nel posticipo serale di lunedì sera al rigamonti per la sfida con il breccia verso il piano recupero del prete pronto ad occupare di nuovo la corsia destra difensiva mentre drolet è ormai pronto a tornare tra i convocati dopo il lungo periodo ai box complice l'infortunio al braccio e anche guberti nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo in ripresa anche belmonte parigini che necessitano entrambi di un'altra settimana di allenamenti per crescere di condizione mentre quasi certamente non ci saranno per infortuni vari rossi spinazzola e alassano ovvero tutti i terzini sinistre a disposizione di bisoli per questo è probabile che sarà adattato molina nel ruolo ma non è da escludere neppure l'utilizzo della difesa a tre e scendiamo ora in promozione per fare il punto sul fontanelle branca che dopo la vittoria in zona cesarini con il corciano è sempre più vicino all'approdo in eccellenza il servizio il passo decisivo verso la vittoria del campionato è stato fatto tanto che già domenica potrebbe arrivare la festa il fontanelle branca si avvicina al sogno e vede veramente da vicino il salto di categoria in eccellenza impensabile all'inizio anno ma costruito partita dopo partita nel primo storico campionato di promozione disputato dalla formazione gubina capace di inventarsi una stagione d'applausi come quella che si avvia ormai alla conclusione a tre giornate dal termine e nella settimana che conduce allo scontro diretto l'ultimo vero ostacolo contro l'inseguitrice ponte valle ceppi agganciato dal lama al secondo posto a meno 6 dalla vetta dopo il pareggio con la san marco juventina dopo il minuto di silenzio in omaggio di cesare maldini il fischio in inizio con il corciano a creare le prime avvisaglie ci prova spatena ma il suo tiro è respinto senza alcun problema dalla pazio con i pugni la risposta dei padroni di casa arriva con l'imbucata per cacciamani che non trova tempo e spazio per il tiro ci prova anche lo stesso cacciamani che libera il sinistro sfera decisamente alta la gara non è bella e anzi assai complicata di nitide palle golle non vi è traccia dopo un campanile ci prova francioni che mette giù e calcia di sinistro la sfera arriva dritta nelle mani del portiere il più ispirato negli ospiti è invece federici anche per lui però c'è da aggiustare la mira dopo aver vinto un rimpallo mariani all'occasione per puntare la fonda in il numero 10 corcianese preferisce subito la conclusione la pazio blocca in due tempi si passa alla ripresa la prima occasione del fontanelle branca con carubini che sguscia via sulla destra e serve cacciamani che calcia ma trova la risposta di segoloni corciano pericoloso con mariani che piazza il diagonale chiamando la pazio alla sbanacciata corradini in posizione di offside rimette in mezzo per federici che scaraventa in rete ma l'arbitro annulla giustamente su segnalazione dell'assistente il fontanelle branca subito l'occasione per passare in vantaggio con pierotti che non è fortunato nella carambola con segoloni dopo essersi liberato dalla propria marcatura ci prova allora martini che dopo una sgaloppata sulla destra lascia partire un diagonale potente che sfila però sul fondo quando la gara sembra ormai destinata ad un giusto pareggio la perla di cristian ghirelli servito a meraviglia dal solito alessandro gaggiotti colpo di testa che scavalca segoloni e regala quelli che potrebbero essere i tre punti che valgono il salto di categoria ed ora lo scontro diretto in caso di vittoria contro il ponte valle ceppi e di pareggio sconfitta dell'ama la favola fontanelle branca già da domenica avrà il suo lieto fine è un gol pesantissimo di un di un'importanza incredibile credo sinceramente ho avuto anche paura e ho temuto di poter anche prendere il gol perché comunque erano pericolosi quando ripartivano poi metti quello che non ti pare un po di cuore un po di fortuna però sono segni questi sono segni importanti vuol dire che comunque la squadra ci crede fino alla fine e questa è la cosa forse che do più merito oggi ai ragazzi mi sono divertito altre volte sicuramente molto di più vedendoli giocare però oggi la felicità finale compensa con tutta la tribolazione che ci ha preceduto prima ecco chi invece ha già festeggiato è il padule san marco capace di vincere con tre turni d'anticipo e il campionato e dunque di tornare a distanza di due anni in prima categoria il servizio la prima per primi il padule san marco conquista con tre turni d'anticipo il girone a di seconda categoria umbra e festeggia così il salto in prima categoria tre anni dopo la cocente retrocessione dell'allora padule a suggellare il trionfo del gruppo di mister massimo cerbella ex gloria rosso blu affiancato dal record man delle promozioni da giocatore e rosman carelli al suo settimo campionato vinto con sette maglie diverse il rotondo successo per 3 a 0 ottenuto nell'ultimo turno in un santa mera di padule gremita e festoso con il parlesca ma il dominio del sudalizio e gubino è stato assoluto 63 punti con 19 vittorie 6 pareggi e due sulle sconfitte un autentico rullo compressore soprattutto in casa dove i verde amaranto non hanno mai perso ed ora altre tre partite per chiusare nel modo migliore un'annata dal libro dei ricordi per poi iniziare a pensare ad un futuro che si spera possa essere sempre più radioso per il padule san marco è una giornata importantissima per la società per i ragazzi molti di molti di questi facevano parte anche del gruppo del della retrocessione della prima categoria perciò se la sentivano forse oggi non si sono espressi come volevano perché la tensione un po tutto si è venuta a verificare in questa partita però ci può stare ci può stare in cammino importante giusto penso meritato perché fin dalla prima giornata dal primo giorno che ci siamo visti abbiamo creduto in qualcosa è stato un mix buono ottimo di ragazzi giovani e persone esperte che si sono messi a disposizione di quelli più giovani e viceversa cosa che è difficile trovarlo sia in categorie basse come queste ma anche andando in avanti perciò penso che una soddisfazione immensa contentissimo parecchi ragazzi di questa rosa vengono dalla retrocessione di due anni fa e quindi avevamo come obiettivo all'inizio dell'anno di fare bene e di provare a vincere il campionato diciamo che vincerlo con tre domeniche di vantaggio è stato soprattutto merito del mister ma soprattutto del gruppo che è un gruppo veramente coeso e dove tutti tiravano dalla stessa parte basti pensare che oggi c'erano tre ragazzi che non erano convocati e sono comunque venuti qua alle due prima della partita stare con noi quindi questo spiega quanto questo gruppo credeva in questo obiettivo serata di partite da dentro o fuori per volley e basket in superlega di volley alle 20 e 30 la seer safety con ad perugia affronta al palo olimpia calzedonia verona per i quarti di finale scudetto chi vince passa il turno ed affronterà in semifinale civita nova chi perde è eliminato nel basket invece alle 21 alla polivalente c'è gara 2 di finale play out tra gubbia da sisi con gli e gubbini costretti a vincere per non retrocedere in di sempre alle 21 al palafoccià di perugia in campo per l'altro scontro play out tra bastia e spoleto con i bastioli salvi in caso di vittoria e chiudiamo con il ciclismo e con le ottime performance degli atleti della gubbio ciclismo mocaiana arriva un nono posto per l'ander manuel pesci della quest appone team mocaiana che ha conquistato questo risultato a città di castella al termine del 22esimo trofeo alta valle del tevere memorial renato amantini di 150 chilometri con 178 atleti al via doppio piazzamento in romagna per gli esordienti di secondo anno della società ciclistica eugubina al termine del 17esimo memorial soci fondatori svoltosi a villa marina di cesenatico nicola stocchi è risultato settimo mentre alessandro pastorelli ha conquistato un ottavo posto ed era questa l'ultima notizia del nostro tg sport come sempre vi ringraziamo per la vostra attenzione dalla redazione dalla regia buon proseguimento di serata ovviamente con trg buon proseguimento di serata ovviamente con trg buon proseguimento di serata ovviamente con trg